Migliorano le condizioni del 48enne Antonio La Selva, il personaggio noto alle Forze dell'Ordine, rimasto vittima di un agguato sabato scorso intorno a mezzogiorno nella villa comunale di Conversano, nel Barese. Un episodio che ha acceso i riflettori su una presunta guerra tra clan, esplosa in una cittadina nella quale per almeno 30 anni si è respirato un clima di pace e tranquillità. La Selva, conosciuto per i suoi precedenti per estorsione, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico nell'ospedale di Monopoli. I medici del reparto di chirurgia hanno confermato che è stato colpito da quattro proiettili, uno dei quali l'ha raggiunto all'addome, senza però ledere organi vitali. Tuttavia i sanitari sono convinti che i sicari abbiano premuto il grilletto con l'obiettivo di ucciderlo. La prognosi non è stata ancora sciolta, nelle prossime ore la Selva potrebbe essere sottoposto ad un nuovo intervento chirurgico. Sul fronte investigativo invece i carabinieri stanno compiendo indagini a tutto campo. L'ipotesi più seguita è che la pecora, così e soprannominato la Selva, doveva essere punito e quindi ucciso. Infatti così è stato, visto che la sparatoria è avvenuta in pieno giorno sotto gli occhi di decine di persone che passeggiavano in villa. Non ha dubbi neppure la procura di Bari, secondo la quale l'agguato rientra in una serie di episodi criminali registrati negli ultimi mesi, come ad esempio un'altra sparatoria avvenuta tra luglio e agosto scorsi in Via Giusti, seguita da una bomba carta fatta esplodere in un centro scommesse, un'auto bruciata ad un pregiudicato in largo falconieri, una serie di vitigni e tendoni abbattuti in contrada Santa Chiara e infine l'incendio al mercato ortofrutticolo registrato martedì scorso. Episodi che sembrano tutti indirizzati verso il racket delle estorsioni e con ogni probabilità anche verso il traffico degli stupefacenti. Per tutto il fine settimana i carabinieri hanno ascoltato decine di persone, tra cui molti sorvegliati speciali. Anche il sindaco di Conversano Giuseppe Lovascio nel fine settimana non è stato a guardare. Oltre a condannare ogni forma di violenza per la sua città, ha preannunciato un consiglio comunale monotematico, oltre che la richiesta ufficiale di un comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza.